cosa ti accadrà nella settimana dal 3 al 9 aprile 2023 lo vedremo oggi con i miei tarocchi grazie alle loro previsioni farò tre stese quindi fai la sua scelta fra quarzo rosa avventurina verde o ametista ti lascio i tempi giù nella descrizione di questo video così come anche i nomi e i link delle carte che ho creato io che utilizzerò in questo video partiamo subito ok andiamo a vedere la settimana per il quarzo rosa e andiamo a vedere cosa hanno da raccontare i miei tarocchi o un mal di gola ragazze i ragazzi non so dove l'ho beccata ma un dolore non vediamo proprio dolore è signore santo allora la settimana del quarzo rosa dal 3 al 9 aprile che poi è la settimana di pasqua c'è la pasqua di mezzo vediamo per il quarzo rosa l'asso di bastoni come prima carta ci piace ci piace no come no scusi un attimo è quarzo rosa voglio vedere la terza per te pareva ma no è bella è bella anche lei in questo contesto non ci sono problemi mamma che carte un quarzo rosa aspetta fammi vedere troppo belle mi fa vedere scusi un attimo non me l'aspettavo cioè asso di bastoni sole sono rimasta lì così allora quarzo rosa dal 3 guarda non puoi capire quanto sono contenta quando vedo e gustate bene cioè che escono carte belle per voi che mi seguite guarda più che per quando le faccio con me ci credi guarda ok si si va bene ok esatto se si capovolto se allora qui ho pensato anche un'altra cosa pensa se comunque asso di bastoni guarda io ho pensato una cosa non so se faccio bene a dirvelo o no comunque io ve la dico però su questa cosa come vi posso dire con tutte le le pinze vi chiedo ma mi chiedo proprio di prenderla con le pinze finze 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 non per tutti magari è un'intuizione mia magari sto sbagliando va bene però ve la dico mi è venuta il segno delle carte vogliono io ve la via io per alcuni di voi ribadisco con tutti gli asterischi io vi posso vedere anche l'inseminazione per avere un figlio quindi o proprio c'è chi di voi la può fare durante questa settimana o va dal medico per informarsi per chiarirsi le idee su una pratica del genere oppure a vostra insaputa non lo sapete avete fatto l'ha visto avete fatto qualcosa insomma è qui qualcosa si sta muovendo perché perché dico questo perché ancora qui è un qualcosa che sta lavorando sotto 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 magari lo verrete a sapere più avanti fatemi sapere chiusa la parentesi per quanto riguarda sto discorso comunque andando avanti proseguiamo con le altre allora qui sicuramente fanno vedere una comunicazione una comunicazione che arriva ma anche un chiarimento se vuoi è un chiarimento che arriva magari ti devi chiarire con qualcuno o ti arriva un messaggio che aspettavi per chiarirti le idee no per esempio ti aspettavo una risposta da qualcuno su un determinato tema questo si verrà dato ma qui c'è un qualcosa che viene chiarito ma anche qui c'è una nuova partenza un nuovo inizio qui si inizia un qualcosa che sia un nuovo lavoro guarda infatti c'è proprio l'eccitazione mercurio in gemelli ma mercurio in gemelli al di là proprio dell'eccitazione fra l'altro poi si passa dalle nuvole al sole non so se ci avete fatto caso va bene il cielo dal nuvolo diventa assolutamente bello splendente pieno di luce e qui effettivamente anche qui è uscito è uscito il sole quindi sono due carte che mi parlano di sole solarità e quindi gioia e quindi chiarezza e via dicendo comunque detto questo qui c'è una comunicazione ce lo conferma anche l'astrologia oltre a richiamarci il segno dei gemelli ma io continuo a vedere i figli o comunque persone giovani persone giovani quindi o ci parlano proprio di questo ok ma anche ancora guarda qui ci può essere anche un qualcosa che avresti dovuto fare in gruppo avresti dovuto fare con qualcun altro che magari tu ti ritroverai a doverlo fare da solo per un motivo x ok per un motivo x è un qualcosa che dovevi fare in gruppo ti ritroverai a farlo da solo andiamo a interrogare gli oracoli dell'amore e vediamo intanto ci parlano non solo di amore per il quarzo rosa la settimana dal 3 al 9 allora vediamo ah erano due allora guarda qua vuole parlare in attesa di poterti parlare due volte mi è uscita guarda in attesa di poterti parlare vuole parlare per cosa? chiarire qui c'è un chiarimento ed effettivamente c'è la pausa c'è l'attesa ok grandi cambiamenti in vista e la riconciliazione cioè che levo più belle di così bambine io non lo so guarda quarzo rosa sono proprio contenta quindi qui sicuramente c'è qualcuno ma tutte le carte parlano vedi il sole il sole no? la luce quindi il chiarimento ma anche insomma anche la riconciliazione cioè voglio dire io guarda esti due o me sono no ora quarzo rosa va bene? quindi qui c'è senz'altro una riconciliazione c'è qualcuno che magari sta aspettando il momento più idoneo per poterti parlare vediamo gli oracoli volume 2 cosa hanno da dire? sta aspettando il momento più profizio il momento più adatto per poterti parlare comunque sia appunto vedi è in attesa di poterti parlare ma vuole proprio parlarti vediamo eh si può trattare d'amore come si può trattare di un figlio o di un'altra persona di un collega cioè qui non è che mi dicono il compagno la compagna qualcuno tu lo saprà te con chi tu hai una situazione un po' così vediamo quazzo rosa però qui c'è anche un qualcosa dai guarda me parla lo steato come si fa come si fa a parlare così qualcuno è pentito e vuol chiedere scusa cioè qui ci sono tre dico tre mazzi di carte che mi dicono la stessa identica cosa ok qualcuno vuol chiedere scusa si vuol riconciliare la riconciliazione in attesa di volerti parlare la riconciliazione del sole cioè ascolta qui un esiste è così punto e stop ok riconciliazione la situazione non cambia che è uscita da qui allora te lo dico io che cosa sta succedendo qui c'è vedi mi parlano anche di attesa le carte come ti ho detto anche di questa carta qui allora qui possono essere due cose o la persona che ti vuole parlare ti vorrebbe parlare ma tu sei te che tu pigli tempo per un motivo o per un altro ok che tu rimandi diciamo questa situazione oppure gioco forza gioco forza qui va rimandato un qualche cosa ok ma neanche per caso di bastoni sole sono troppo forti io credo che qui ci sia un discorso che già dura da un po' di tempo quindi una situazione che non era chiarita un qualcosa che insomma ok ma durante questa settimana qui qualcosa succede magari semplicemente la persona si fa avanti ok la persona si fa avanti per dirti voglio parlare voglio chiarire mi voglio riconciliare bla bla però gioco forza dovete aspettare qualche giorno in più per potervi vedere per dire capito però asso di bastoni sole sono troppo forti cioè qui ragazzi qui qui qualcosa deve succedere poi mercurio gemelli figurati è la è la comunicazione la il messaggio per eccellenza quindi qui non ci sono cavoli quarzo rosa qui qualcosa accade qui vedo una persona ma ripeto magari non si tratta di amore nel senso il compagno accompagna la persona del tuo cuore magari si tratta di un qualcosa che riguarda il lavoro visto anche le carte a bastoni capito che ti voglio dire magari hai chiesto qualcosa che riguarda il lavoro tu aspettavo una risposta questa arriva magari ti dicono per esempio magari ti dicono da ste carte guarda il posto di lavoro è tuo oppure guarda ti vogliamo incontrare vogliamo questo colloquio ti chiamano per un colloquio poi per il lavoro vero e proprio c'è questa pausa dobbiamo aspettare un attimino non so se mi spiego ok ma qui una notizia strepitosa qui c'è non ho il minimo dubbio quarzo rosa non c'è verso da ste carte quindi fammelo sapere nei commenti vediamo anche i segni zodiacali coinvolti magari vediamo capiamo di più allora senz'altro ci sono i gemelli ok quindi con chi avrà più a che fare il quarzo rosa durante la settimana allora abbiamo visto i gemelli i pesci il capricorno il leone i pesci li abbiamo visti si è già confermati il toro la bilancia questo niente ok il toro che viene confermato lo scorpione l'ariete l'avevo detto no l'ariete lo metto adesso e il e il sagittario quindi tutti e tre i segni di fuoco ci sono va bene quarzo rosa fammi sapere guarda è una settimana assolutamente stupenda asso di bastoni sole non si vedono tutti i giorni queste due carte insieme ti posso garantire che sono meravigliose mi parlano proprio di novità di nuova energia nuovo entusiasmo di amore di figli di comunicazione positiva gioiosa di un successo anche lavorativo se vuoi di grandi cambiamenti effettivamente perché si parla di un qualcosa di nuovo insomma potrei parlare tre giorni fammi sapere nei commenti perché sono carte bellissime quarzo rosa ok andiamo a vedere gli altri mazzetti ok ciao avventurina verde andiamo a vedere la settimana per te vediamo un po' i tarocchi cosa vogliono dirci cosa ci preannunciano io mi sono beccata ho mal di gola ma mal di gola guarda sta stagione è proprio ai 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 un male a deglutire non vi dico va bene allora avventurina verde settimana dal 3 al 9 di aprile per l'avventurina verde come sarà la settimana eh questa guarda là questa può proprio uscire poi questa oh ma ragazzi ma che settimana è questa qui maremma maremma allora wow allora il re di denari re di denari per te 5 di denari re di denari il 5 di denari e la regina di bastoni allora queste carte sono bellissime ok bellissime vediamo seguiamo però con il resto tiriamo anche queste allora qui intanto posso dirti che ci sarà un miglioramento in una situazione finanziaria qui c'è una novità che ti arriva anche se vuoi abbastanza sorpresa guarda la decisione di Marte in gemelli ok quindi qui fra l'altro Marte in gemelli è appena uscito da Marte in gemelli quindi quello che sta accadendo potrebbe essere una conseguenza di un qualcosa che hai appena fatto nei 5 4 5 6 mesi scorsi ok che hai fatto sotto Marte in gemelli lo dico perché ovviamente so dove sono i pianeti in questo momento parlandomi di Marte in gemelli che è appena uscito da lì questo può essere ma detto questo ok quindi senz'altro questo ma qui c'è anche un incontro con un uomo con una donna dipende se chi tu sei se tu sei la donna o se tu sei l'uomo in questione qui c'è anche un incontro ma qui insomma di passione per esempio la regina di bastoni è sicuramente una regina molto molto focosa qui ci possono essere in ballo sicuramente segni di terra e segni di fuoco ma andiamo a vedere dal 3 al 9 aprile per l'avventurina verde qui anche del denaro che può arrivare sotto qualsiasi forma insomma guarda qualcosa di veramente speciale eccola là e infatti è quello che sto cercando di dirti io vediamo stavo dicendo vediamo cos'altro guarda le belle notizie ok belle notizie che arrivano e nostalgia del passato quindi qui ci può essere una persona che torna che si rifà viva una persona con cui tu hai avuto un passato un qualcosa da ricordare in altre parole ok una persona con cui tu hai avuto tu hai un qualcosa di no guarda le risposte che cercavi guarda queste cartine sono magiche comunque vanno proprio tutte insieme ma per forza così deve essere ok quindi una persona sicuramente con cui tu avrai a che fare magari neanche te lo dice magari neanche te lo dice però ti ha ancora nel cuore qui c'è una persona con cui veramente tu hai qualcosa di speciale se non è un ex non è detto sia qualcosa nel senso un ex che torna ok per alcuni può essere per carità ma può anche semplicemente trattarsi di una persona che tu conosci da tanto tempo con cui tu hai un grandissimo buon feeling che tu vedrai tu sentirai durante questa settimana vediamo anche gli oracoli volume 2 cosa hanno da dire capito avventurina verde belle accidenti che belle carte qui guarda c'è anche un miglioramento economico questa settimana possono entrare dei soldi sicuramente possono entrare dei denari un lavoro potrebbe andarti a buon feeling guarda uscite con gli amici vedi uscite e divertimenti in compagnia e qui fanno vedere insomma lo spumante quel che è che viaggia a fiumi ma proprio nel senso di ecco uscite divertimenti quindi senz'altro un pranzo una scena fuori un locale eccetera magari con questa persona eh questo uomo e questa donna ma magari anche in un'altra situazione comunque qui c'è un qualcosa di molto molto bello che arriva durante questa settimana delle belle notizie che arrivano segua da là lei e segui il tuo cuore vabbè guarda non voglio vedere nemmeno queste mi bastano quelle che ho davanti sono troppo belle comunque quindi qui sicuramente belle notizie ce lo dicono le carte è un qualcosa che arriva risposte che cercavi che arriveranno ehm un movimento anche perché no qui ci può essere anche un movimento di un qualche tipo del denaro uscite con gli amici ma anche un incontro con questa persona speciale almeno per te per te è una persona speciale altrettanto lo sei che è per questa persona qui c'è qualcosa a parte che abbiamo detto abbiamo visto no il pranzo la scena ma anche un qualcosa come ti posso dire una novità queste belle notizie ma sembra quasi che non tu te l'aspetti nemmeno da questa persona pur essendo questa persona per te speciale ok una persona con cui come ti ho detto tu hai o tu hai avuto un qualcosa di un qualcosa di speciale questa è una persona con cui c'è armonia ci si trova bene ci si sta bene insieme una persona molto sicura tranquilla sicura di sé ma è una persona proprio con cui ci troviamo bene guarda non escludo anche un contratto di un qualche tipo durante questa settimana perché vedi qui c'è anche la decisione con gli scacchi ok quindi qui ci può essere una decisione che il dado che si trae come si dice il dado e tratto no che si trarrà durante questa settimana comunque qui c'è lo sblocco di una situazione stagnante e un miglioramento di una situazione tant'è che qui si stappa si stappa letteralmente lo spumante magari tu esci insomma tu vada a qualche parte io so cos'altro dirti avventurina verde perché ne sono proprio belle vediamo un pochino anche i segni zodiacali oltre ovviamente ai gemelli qui abbiamo visto il segno dei gemelli vediamo con quali segni zodiacali avrei a che fare durante la settimana allora anche con il capricorno con la vergine con l'ariete per l'avventurina verde ok ariete che viene subito confermato il leone leone subito riconfermato il l'acquario vediamo se me ne danno un'altra questo niente e la bilancia ok quindi questi segni zodiacali più coinvolti durante questa settimana poi tu me lo farai sapere settimana bellissima distesa speciale con incontri con incontri speciali uscite divertimenti con gli amici ma anche con questa persona ci potrebbe essere un contratto di un qualche tipo una sorpresa ma anche proprio un miglioramento economico un'entrata di denari mi raccomando fammi sapere nei commenti a ventolino ok andiamo a vedere altri mazzetti ciao ametista eccoci qua benvenuta andiamo a vedere la tua settimana va bene dal 3 al 9 aprile qui abbiamo anche la pasqua ok che cade proprio in questa settimana quindi vediamo un po' settimana dal 3 al 9 aprile 2023 per coloro che hanno scelto l'ametista come sarà la settimana dal 3 al 9 per l'ametista qui c'è tanta voglia di cambiamento tanta voglia di mamma mia signora mamma ma che c'è questa settimana bambine io sono proprio contenta vi mando tutta energia positiva a tutti voi tutte e tre mazzetti ora lo posso dire uno più bello dell'altro anche qui c'è una carta fantastica proprio l'asso di l'asso di denari con il 3 addirittura cioè qui boh ma io guarda vabbè comunque allora qui c'è tanta voglia di è l'otto del taglio qui c'è tanta voglia di se se c'è tanta voglia di cambiamento ragazzi c'è voglia di cambiare voglia di stavo dicendo di espatriare magari qualcuno qualcuno di noi veramente sta affrontando sta pensando proprio anche ad un trasferimento vero e proprio perché no comunque c'è tanta voglia di evadere voglia di divertirsi voglia di leggerezza proprio di alleggerire la mente e di lasciare tutti i pensieri dietro le spalle ma qui c'è effettivamente qualcosa di nuovo amethista per te durante questa settimana un nuovo inizio un contratto ok un messaggio un qualcosa proprio di nuovo ok qualcosa di veramente speciale beh sì lo confermo perché è evidente stavo dicendo è evidente che è un qualcosa di veramente speciale visto tutte le carte che ho qui davanti a me che sono sono bellissime e concorrenza in amore effettivamente qui queste carte parlano anche di gelosia ok parlano anche di gelosia ma qui potrebbe essere non solo gelosia ammiratore segreto guarda non solo gelosia stavo dicendo nel senso proprio del termine anche gelosia sul lavoro gelosia perché qui vedo tu ci avrai un colpo di fortuna un qualcosa di molto favorevole ti sogna un ammiratore segreto qualcuno ti sogna si ripetono gli stessi errori siete l'uno nei pensieri dell'altro quindi qui attenzione alla gelosia a non commettere questo errore di litigare per gelosia o per il troppo volere per la troppa apito ecco ma anche mi viene da dire per un pizzico d'egoismo non so da che parte se da parte tua o dell'altra persona ma qui c'è un pochino questo trattenere forse proprio per questo discorso di mio 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 questo senso di possesso che sia per amore o per altro quindi questo parlano le carte qui c'è una controparte quindi tu ci sei te con un'altra persona o magari altre due persone che qui vedi tre che potreste o litigare o non trovarvi d'accordo magari per una compravendita ad un immobile per esempio perché posso vedere anche questo queste carte parlano anche di acquisto di immobili per esempio ok oppure di una collaborazione che tu dovresti fare però qui c'è un qualcuno che non dà quello che invece dovrebbe dare all'altra persona ma tende a prendere vedi te di chi e di cosa ti stanno parlando vediamo anche gli oracoli volume 2 cosa vogliono dirci ok cioè qui fanno vedere proprio quella bramosia quel desiderio proprio sfrenato mi verrebbe da dire di fare un qualcosa ok con il rischio però di di sbilanciare troppo le cose da una parte e dall'altra non so come è meglio dire magari qui si parla di un lavoro e si parla di un lavoro che chiede molto ma paga poco per esempio sono i dubbi in queste arti e comunque ma comunque si potrebbe parlare anche un discorso del genere fatto sta che qui c'è un aumento che si va in meglio c'è una situazione che va a migliorare ad elevarsi quindi che sia lo stipendio va ad aumentare il lavoro che va a migliorare una situazione guarda là ci sarà un nuovo inizio e la metto proprio insieme a questo splendido asso di denari qui più belle di io se non c'è verso non c'è verso qui durante questa settimana potrai potrete vivere ametista qualcosa di veramente speciale sia dal punto di vista proprio lavorativo insomma comunque di vita sia dal punto di vista emotivo qui c'è qualcuno che ti pensa la persona a cui tu pensi se ti stanno dicendo le carte perché siete l'uno nei pensieri dell'altro è segno che qui siete in due siete in due a pensarvi fammi vedere un'altra carta un mal di gola deglutire guarda non ti dico vedi guarda prendo solo questa se no sono troppe si esatto e decidere gita fuori porta pace e tranquillità quindi qui è proprio esattamente quello di cui ti stavo parlando all'inizio che ti ho detto c'è voglia proprio di pace di tranquillità di leggerezza di lasciarsi dietro le spalle no tutta una situazione difficile o comunque di obblighi di restrizioni di responsabilità ecco qui si ha voglia proprio di evadere ametista magari evadere semplicemente come ti dice anche qui la carta con una gita fuori porta una giornata da qualche parte potresti fare un piccolo viaggio ricarti da qualche parte comunque qui c'è un qualcosa che viene fatto insieme ad altre persone quindi insieme ad altre persone potresti andare da qualche parte fare una gita ok o comunque una giornata fuori da casa insomma non so come è meglio dire poi me lo farei sapere vediamo ancora per l'ametista dal 3 al 9 oddio è vero poi se si pensa c'è anche Pasqua ci sta alla grande che tu vada da qualche parte allora per l'ametista 3 al 9 no acquisi cosa ti ho detto il sole in toro cosa ti ho detto l'acquisizione guarda qui c'è un uomo una donna il cuoricino quindi senz'altro qui si parla anche di amore e le carte ce l'hanno detto durante questa settimana c'è un incontro un sentirsi insomma un momento insomma molto bello molto speciale ci stanno dicendo queste arti devo dire però vedi concorrenza qui c'è anche gelosia qui c'è gelosia forse da parte di entrambi comunque un'importante qui senz'altro c'è un qualcosa di affettivo un incontro insomma un momento romantico eccetera ok ma qui c'è anche quello di cui ti stavo parlando prima l'acquisizione con il segno del toro qui c'è anche quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una compravendita ad un immobile se non si tratta di una compravendita ad un immobile magari qualche altra cosa insomma voglio dire io non sarà per tutti ametista però qui c'è anche quello quindi se sei in ballo per una cosa del genere magari io ti vedo un ballo per una casa ma la concorrenza mi dice magari qui c'è una casa che tu vorresti te ma c'è anche qualcun altro che la vuole quindi gioca bene le tue carte andiamo a vedere i segni zodiacali coinvolti con chi tu avrai a che fare durante la settimana sicuramente con il toro qui il toro ce l'hanno già fatto vedere vediamo con chi avrà a che fare l'ametista durante questa settimana allora abbiamo detto il toro poi c'è il capricolo il leone questo niente il cancro questo niente vediamo per l'ametista con chi avrà a che fare durante la settimana con l'ariete con i gemelli il sagittario i gemelli vengono confermati e la vergine quindi questi sono i segni più evidenti che sono usciti mi raccomando non ripetere gli stessi errori attenzione alla gelosia al sesso di possesso ma anche all'avarizia all'avarizia intesa nel senso di prendere senza dare in qualsiasi campo quindi magari si contratta sul prezzo dell'immobile se si parla di quello magari ok le situazioni possono essere le più disparate poi tu mi farai sapere ametista comunque una settimana splendida con quest'azzo di denari qui un contratto c'è nel senso che qui fanno vedere tutte ste carte a denari con tutte le carte messe appresso e quello che ci ho letto poco prima qui c'è un otto di bastoni esattamente ok quindi qui c'è questo qualcosa di nuovo si inizia qualcosa di nuovo siccome mi parlano di compravendita ad un immobile qualcosa di nuovo qui ci sta che l'affare si faccia fammi sapere ametista nei commenti mi raccomando un bacione una buona settimana a tutti voi e noi ci vediamo qui ovviamente al prossimo video ok ciao ciao